Siamo in un consiglio regionale e quindi è abbastanza improprio parlare di temi di sicurezza come qualcuno dei colleghi, anche se come direi timidamente, ha accennato. Sappiamo benissimo che le competenze delle regioni in tema di sicurezza sono piuttosto limitate direi e secondo il titolo quinto della Costituzione si limitano alla polizia locale e amministrativa di cui ho oggetto questo progetto di legge. Il progetto di legge riprende e aggiorna la vecchia legge regionale, la 4 del 2003 e la aggiorna, la innova in diversi punti apprezzabili. Anche io, anche noi abbiamo apprezzato tutto il metodo seguito finora, in particolare la prima parte l'elaborazione di questo progetto di legge, ossia tutto il lavoro fatto sul territorio dalla SEPI, quindi nel elaborare un testo incontrando gli stakeholder, come si dice adesso anche in regione Lombardia, quindi i portatori di interesse di questo progetto di legge cercando di condividere con loro, quindi anche con i sindacati dei più di 9.000 agenti di polizia locale sul territorio di regione Lombardia, quindi di condividere il testo di questo progetto di legge, si è cercato di sentire ovviamente anche il punto di vista degli enti locali, quindi sia incontrando i sindaci, sia poi sentendo, abbiamo ascoltato in audizione, lanci in commissione. Quindi il metodo di apertura sia nei confronti ovviamente dei portatori di interesse, ma anche nei confronti delle istanze portate dalle opposizioni finora in commissione, mi sembra molto apprezzabile su un tema, va detto per l'appunto come mi hanno anticipato alcuni colleghi e anche ci sembra molto facile, ci sono tanti episodi in questo senso dal punto di vista della maggioranza, diciamo che possiamo usarli per propaganda politica. Detto questo io mi limiterei a esporre gli emendamenti che ho presentato e annunciando a contempo quelli che ritiro. Allora il mio emendamento numero 12 vuole introdurre dei protocolli di intesa con le prefetture che prevedono per il personale di polizia locale attribuzione di benefici analoghi a quelli previsti per le polizie ad ordinamento statale. Tutto questo ovviamente nel rispetto per l'appunto delle normative statali, riconoscendo quello che è il ruolo del questore e del prefetto in queste questioni. Vabbè c'è l'emendamento 13, c'è un emendamento tecnico, l'emendamento 14 si intende ritirato, l'emendamento 15 chiede l'introduzione di una piattaforma di learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori che già prestano servizio all'interno della polizia locale, io ritiro questo emendamento perché è superato dall'emendamento 58 appena depositato dal relatore Foroni. L'emendamento 16 tratta sostanzialmente il famoso limite dei 18 operatori per i servizi di gestione associata di polizia locale. Su questo noi abbiamo visto che il testo di legge è stato migliorato, all'inizio si prevedeva un limite minimo per i finanziamenti da parte di Regione Lombardia agli enti locali, si è eliminato questo vincolo prevedendo solamente una premialità per le gestioni associate con minimo 18 operatori. però noi riteniamo che comunque questa formulazione migliore della precedente non sia soddisfacente perché secondo noi ha ancora delle ambiguità sul fatto che poi con i successivi bandi o regolamenti o non so se ci saranno dei libri di giunta regionale, c'è ancora il rischio sostanzialmente di penalizzare i piccoli comuni che non riescono ad associarsi in stazioni di polizia locale con almeno 18 operatori. Quindi noi con questo emendamento, l'emendamento numero 16, sostanzialmente chiediamo la diminuzione di questo parametro a 12 operatori per ampliare appunto il campo di applicazione del finanziamento pubblico regionale a tutte le iniziative di gestione associata di polizia locale che rientrino nel minimo di operatori previsto al comma 2 dell'articolo 7. Allora l'emendamento 17, con questo emendamento si vuole evitare che i comuni si trovino impossibilitati ad attuare servizi, interviene sull'articolo 10 comma 2, quindi per evitare che i comuni si trovino impossibilitati ad attuare servizi esterni diurni di tipo ordinario come ad esempio i servizi collegati alle scuole o comunque che si svolgono in contesti non problematici riservando ad un regolamento dell'ente, qui c'è un subemendamento del relatore Foroni sul quale concordiamo, il regolamento dell'ente che precisi le tipologie di servizio escluse. L'emendamento 18, abbiamo parlato anche con gli uffici tecnici dell'assessorato dei quali appunto ringrazio la disponibilità, abbiamo fatto un confronto tecnico sugli emendamenti che ho depositato. Con questo emendamento sostanzialmente si chiede, si vuole che gli incarichi di comandante del corpo di polizia locale e di responsabili del servizio siano affidati tramite concorso pubblico e senza carattere di temporaneità. Ci rendiamo conto della rigidità che viene introdotta con questo emendamento ma noi al momento lo manteniamo. L'emendamento 19 si intende ritirato. L'emendamento 20 puntava all'istituzione di un fondo regionale tutelato del personale di polizia locale per l'indennizzo degli operatori che abbiano perso anche temporaneamente alla propria integrità fisica a causa di eventi legati alla propria attività professionale con somme attribuite a questo fondo regionale tramite una percentuale degli introiti derivanti dalle sanzioni inflitte dalle polizie locali. Sostanzialmente allora questo emendamento si intende ritirato perché con l'approfondamento tecnico abbiamo visto che si creerebbero delle disparità nel pubblico impiego. Quindi lo ritiro. Scusate. L'emendamento 21 si intende ritirato. Emendamento 22. Con l'emendamento 22 sostanzialmente introduciamo una clausola che ci sembrava mancante, cioè la clausola valutativa di questa legge, quindi con l'aggiunta dell'articolo 40 sul quale c'è un subemendamento del relatore Foroni che vuole estendere l'inizio della valutazione da un anno dall'attuazione della legge regionale a 18 mesi, subemendamento sul quale noi concordiamo. Infine il nostro emendamento 23 su quello che era il punto più critico di tutto il testo di legge, ossia l'articolo 28 che è denominato ancora fino all'approvazione degli emendamenti volontariato e associazionismo per la sicurezza urbana. Noi abbiamo posto in discussione con un confronto tecnico con l'assessorato diversi dubbi su questo articolo, sostanzialmente secondo noi aveva diversi profili di incostituzionalità in particolare, la faccio breve perché dovrei fare una lunga spiegazione visto che sembrerebbe superato in parte da un emendamento del relatore Foroni, in particolare per la continua citazione anche in altre parti della legge ma in particolare appunto in questo articolo di la citazione del termine sicurezza urbana che come detto appunto all'inizio è una competenza o dovrebbe essere una competenza esclusiva dello Stato. Allora noi abbiamo presentato questo emendamento che sostanzialmente puntava l'abrogazione completa dell'articolo, io lo mantengo, potrei ritirarlo nel momento in cui c'è un emendamento del relatore Foroni ma io su questo noi su questo emendamento consideriamo che sicuramente è migliorativo, molto migliorativo del testo attuale di legge sull'articolo 28, elimina tutti i dubbi sostanzialmente che avevamo sulla costituzionalità di questo articolo, rimane però un dubbio sull'articolo 3 quando parla di divise noi riteniamo che non sia indispensabile insomma questo comma 3. Ci riserviamo poi in dichiarazione di voto la valutazione complessiva sul provvedimento di legge che uscirà dopo gli emendamenti, grazie. Anche noi riteniamo molto migliorato il testo di questo progetto di legge così come è uscito dalla Commissione con il lavoro che abbiamo fatto dalla Commissione fino a questo momento anche in Aula, noi abbiamo ancora dei dubbi come ho detto prima quindi sulla nuova formulazione dell'articolo 28 appunto introdotta dal relatore Foroni non che permangono i dubbi appunto sui servizi associati di polizia locale, io capisco come dire mi posso, potrei fidarmi della come dire buona fede dichiarazione dell'assessore sul fatto che non verranno penalizzati i piccoli comuni ma tengo anche presente la comunicazione arrivata proprio ieri sera da Anci che mi sembra esprimeva lo stesso dubbio sul rischio che rimane sulla penalizzazione dei piccoli comuni. In ogni caso anche noi riteniamo questo testo molto apprezzabile in molte parti, i dubbi molto grossi che avevamo sull'articolo 28 ci fa piacere sono stati tutti superati appunto dall'emendamento del relatore Foroni per cui anche noi votiamo non so se si può dire con convinzione perché forse non è molto proprio un voto di astensione. Grazie.